L'uguaglianza possibile, le banche nei comuni del futuro è il tema di un momento di confronto voluto dai sindacati confederali sul ruolo delle banche in Abruzzo, ma soprattutto sui dati allarmanti che emergono sulla presenza di banche e sportelle in regione. In 12 anni da 700 filiali si è arrivati a 429 e si è accentuata la disuguaglianza tra costa e aree interne. Negli ultimi anni, soprattutto nelle aree interne, si assiste ad una desertificazione bancaria supportata da un nuovo modello di banca online che prevede una chiusura massiva di sportelle e uffici che non sono ritenuti più interessanti e remunerativi, ma così viene a mancare un punto di riferimento per le aziende e per i cittadini con difficoltà pure di accesso al credito da parte delle imprese. Il sistema produttivo è in difficoltà, così il ricercatore Aldoronci nella sua analisi dei dati, che ha rilevato come in Abruzzo negli ultimi anni siano scesi gli abitanti con un decremento superiore alla media nazionale, quasi il doppio. Le soluzioni sono che le banche ritornino e il territorio ritornino a fare, a svolgere pienamente la loro funzione di banca. Ci troviamo in un periodo complesso, con una crisi economica forte, le imprese hanno bisogno di banche che siano a loro vicine per quanto riguarda tutto l'accompagnamento dei processi relativi alla transizione ecologica e digitale che si deve portare avanti ed è importante che le banche siano vicine ai cittadini. Secondo noi un modello di banca che è soltanto una banca digitale con canali digitali non può funzionare. Purtroppo i dati sono inclementi. Negli ultimi dieci anni si sono persi 2700 posti diretti e circa 300 indiretti. È chiaro che questo sta passando in silenzio, ma è una grossa azienda chiusa e per questa economia regionale causa un danno irreparabile. È chiaro che bisogna porre dei freni perché la tendenza è quella che continua la chiusura degli sportelli bancari. Quindi l'attenzione delle istituzioni deve essere alta. Noi oggi chiediamo alla politica un impegno di fare un discorso comune proprio per cercare di ritornare a rendere attrattivi queste zone interne, zone montaniche che sono importanti per la regione Abruzzo e abbiamo le capacità per poterlo fare. Possiamo contare su ingenti risorse che arriveranno a breve dal discorso del PNRR Sisma, da quell'ordinario, dal CIS Abruzzo, dal CIS Sisma e queste ingenti risorse ci permetteranno di poter fare una programmazione proprio finalizzata al rilancio del territorio. Deve passare invece un nuovo messaggio, quello che l'Abruzzo è una terra competitiva anche perché al momento delle risorse del PNRR il problema della chiusura degli sportelli incide non poco anche sulla socialità. Per questo è importante coinvolgere pure i sindaci. Era presente per tutti il presidente di Anci Abruzzo, Gian Guido D'Alberto.